L'ultima parola di Dio è Gesù Cristo e i cristiani devono rimanere fedeli alla propria identità, forte, concreta e frutto di un lungo cammino. E' quanto sottolineato da Papa Francesco alla messa celebrata nella cappella della casa Santa Marta. I discepoli di Cristo, ha chiarito, non vanno dietro a una filosofia ma sono chiamati a seguire e imitare l'esempio del figlio di Dio nonostante le difficoltà e le inevitabili cadute. Importante dunque non annacquare la testimonianza con una spiritualità ariosa e non cedere alla tentazione della mondanità che allarga tanto la coscienza da far centrare tutto. E' vero c'è il peccato e il peccato ci fa cadere ma noi abbiamo la forza del Signore per alzarci e andare con la nostra identità ma anche io direi che il peccato è parte della nostra identità siamo peccatori ma peccatori con la fede in Gesù Cristo. E non è soltanto una fede di conoscenza no? E' una fede che è un dono di di Dio e che è entrata in noi da Dio. E' Dio stesso che ci conferma in Cristo e ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo, ci ha dato la caparra, il pegno dello spirito e i nostri cuori. E' Dio che ci dà questo dono dell'identità. grazie. Grazie a tutti